Super canifradici ad espiare dosi. È questo il nome della band trentina con più di 20 anni di esperienza sul territorio, la quale promuove musica, eventi ed arte in generale. L'unione di due bassi ed una batteria si adegua al loro stile anticonformista con elementi prog, funk, metal e punk che rendono il tutto dannatamente energico e totalmente inetichettabile. La band è sempre la ricerca di una musica per soddisfare gli orecchi dei propri ascoltatori ed è per questo che nel febbraio del 2023 uscirà il primo vinile 12 pollici intitolato A Giovaggio ovvero Viaggio su Giove, un vinile che conterrà al suo interno una canzone da ben 12 minuti e mezzo. All'interno dello stesso vinile troveremo anche il fumetto interamente disegnato a mano con il testo ed il racconto della canzone. E ora sentiamo qualche parola dal bassista e cantante della band. Allora grazie a un colpo di fortuna siamo riusciti ad avere in mano in questo momento un vinile con un libretto di 16 pagine, un libretto con un racconto, un fumetto e il testo della canzone. La canzone dura 12 minuti, racconti di un viaggio spaziale. Questo escamotage ci ha permesso di uscire con qualcosa di speciale. Finora siamo usciti solo in cd, adesso con i tempi che corrono speriamo veramente di mettere sulla nostra torta musicale questa ciliegina. Presenteremo il vinile tra poco, il Velvet Music Experience a Rovereto e speriamo che piaccia.